I tre errori da evitare per vendere casa da privato. Stai pensando di vendere casa da privato? Attenzione a non commettere questi tre errori che potrebbero compromettere la buona riuscita della vendita. Ciao, sono Damiano Castellana, agente immobiliare Remax a Milano dal 2010. Oggi ti svelo quali sono le tre insidie principali che si possono incontrare vendendo casa senza agenzia immobiliare e come evitarlo. Il primo errore da non fare assolutamente è organizzare visite singole agli acquirenti interessati. Meglio creare piccoli gruppi per far sentire la presenza di più potenziali compratori ed evitare eccessive pretese di sconto. Il secondo errore è non verificare per bene la documentazione tecnica e amministrativa. Questo può portare a contestazioni legali che fanno saltare la vendita. Assicurati che sia tutto in regola prima di pubblicizzare l'immobile. Infine, evita di indicare un prezzo troppo alto o trattabile. Meglio definire sin da subito una cifra corretta e adeguata al valore di mercato. Aiuta ad attrarre più potenziali acquirenti interessati. Attenzione a questi tre insidie. Con un po' di accortezza anche da privato potrai vendere casa al meglio. Per qualsiasi dubbio contattami per una consulenza gratuita.